Buonasera, terza dei Quaresimali in Cattedrale a Piacenza, sempre sul tema del Padre Nostro. Siamo con il teologo Monsignor Pianangelo Sequeri che questa sera affronta il tema non ci abbandonare alla tentazione. Grazie per essere con noi, io partirei dal brano di Vangelo che lei ha scelto, che forse uno non si aspetterebbe quando si parla di tentazione. Sì, perché contiene il risvolto positivo di questo positivo, anche nella preghiera è positivo. Il risvolto positivo di questa preghiera, non indurci nella tentazione, è la parola di Gesù che dice al Padre ti prego di custodirli, li lascio nel mondo ma tu custodiscili nel momento della prova, custodiscili dal male, custodiscili dalla pressione che dovranno subire per portare la testimonianza. Mi sembra che illustrare questo aspetto, cioè che quando noi preghiamo al Padre Nostro diciamo non indurci in tentazione, in realtà diciamo semplicemente al Signore custodiscici, perché se non ci tiene una mano sulla testa non ce la faremo mai, ecco mi sembra un aspetto che aggiunge qualcosa alla ricchezza della nostra preghiera. Peraltro lei adesso ha utilizzato la parola prova che mi sembra di capire abbia la stessa traduzione, il stesso significato di tentazione. Sicuramente, la stessa parola greca, per dire prova e tentazione. Ecco questa è un'altra bella precisazione sulla quale penso di spendere qualche parola, e cioè la tentazione non è soltanto la tentazione appunto della cosa cattiva che vorresti fare perché ti piacerebbe ma ti devi trattenere eccetera, che è la cosa alla quale pensiamo di più. Forse io dico addirittura nella vita normale delle persone questo tipo di tentazione, diciamo non è la cosa più difficile, più dura normalmente, mentre più dura è la prova. Nella prova noi a volte, nelle prove della vita, stiamo per mesi e per anni. Pensiamo a persone appunto sfortunate, a persone ferite, a persone che devono sopprire i loro figli. E queste qui sono prove dure che effettivamente tu capisci potrebbero stortarti l'anima, stortarti la mente, potrebbero indurti a fare delle cose che mai avresti pensato. Ecco, quando dici al Signore custodiscimi, non mi lasciare dentro lì, è vero, senza che la tua mano mi tenga fermo, pensi a questa cosa, a questa tentazione, capisci? Che è una prova della vita che continua nel tempo e a quella appunto, quella sì, è duro resistere. Perché invece noi evidentemente quando parliamo di tentazione l'abbiamo forse un po' banalizzato. Eh, un po' si pensiamo alla mela, no? Mela per dire, ma insomma, sai, qualcosa che ci piacerebbe fare, dice però è peccato. Direi sì, in un certo senso c'è una banalizzazione, perché, vedi, la banalizzazione sta in questo. Poi magari sono cose gravi da non fare lo stesso, voglio dire. Però il fatto è che le cose, come dire, veramente cattive, che ci mettono alla prova, no? Perché dobbiamo imparare a controllarci, controllarci. Però comunque sono trasparenti, ce ne accorgiamo da noi, lo vediamo che sono... Cioè, un soprassalto di volontà comunque ci fa dire sì, perché questa è una cosa un po' schifosa e quindi sarebbe giusto non farla. Ecco. Mentre invece la tentazione prova, è vero, più dura del Vangelo, pensate alle tentazioni di Gesù, alle quali il diavolo non è che gli consigli di fare delle cose trucide, anzi, non sembrano neanche cose trucide, sono quelle prove della vita che ti inducono proprio a cambiare orientamento, capisci? A cambiare la scala delle priorità, la scala dei valori, cioè quelle cose che ti spostano e non sembrano cattive, sembrano spostamenti di reazione. Cioè, tu dici, beh, ma allora se è così, ragazzi, cosa volete da me? Ecco. Al momento non sembra cattivo, sembra un gesto di dire, beh, io sono obbligato a resistere così tanto quando sono martellato e martellato e martellato e in quel momento è la vera tentazione, capisci? Proprio di cambiare rotta, dire no, allora a questo punto se è così non gioco più a fare i vostri, io avevo dei principi, degli affetti, volevo bene alle persone, eccetera, se è quello o quello che mi restituisce la vita, io non gioco più. Ecco, quella lì è una tentazione tosta, quella è quella vera. Nella preghiera noi non diciamo di eliminare dalla nostra vita la tentazione o la prova, diciamo di non abbandonarci in quel momento, perché ho letto un suo passaggio che mi piace molto, uno che vi mette alla prova vi dà l'occasione per essere realmente i suoi interlocutori, quindi è forse anche una prova in senso positivo che dobbiamo passare in qualche modo? Certo, certo, la prova significa appunto che viene affidata, è la vita, la vita contiene la prova e quindi anche la tentazione in questo senso, che la vita fortunatamente è fatta di occasioni e di decisioni nelle quali mettere alla prova la nostra volontà di non essere radiocomandati, di non essere guidati e schiavi semplicemente da altro, che siano le nostre cellule, che siano i nostri istinti, che siano i pensieri che è la società che ci circonda e ci comunica, che sia il nostro vantaggio, l'utilità, che ci sia questo spazio appunto per prendere posizione nei giochi della vita e che questo si annunci precisamente così, sei messo alla prova. Qui effettivamente non c'è una cosa che va da sola, c'è una cosa che va da una parte o dall'altra a seconda di quello che tu... Ecco, questo è il momento di capire se tu mi vuoi veramente bene o mi tieni perché sono una rendita. La prova è questa. E tu sei messo alla prova, dici sì, perché se tu sei una rendita ho avuto un'occasione migliore. E questa è una prova che illumina qualcosa che altrimenti io non saprei mai. Come quelle persone dicono, ma sono passati tanti anni, non so se questa mi ha voluto per il mio patrimonio o perché mi vuol veramente bene, per dire adesso, dico una banalità, ma per capirci. La prova porta alla luce. La prova è quello spazio della vita in cui i determinismi, le costrizioni si allentano e tu sei in grado... La prova paradossalmente è un luogo nel quale tu diventi padrone di te stesso. Capisci che puoi decidere tu e che sta all'animo che hai questa decisione. Ecco, in quel momento appunto è una cosa che sei sull'abisso, perché la libertà comunque ha sempre i suoi rischi. Nello stesso tempo anche la bellezza della diretta, cioè nella vita ci sono dei varchi, tocca a te decidere da che parte andare. Gesù è stato tentato e lei quando parla della tentazione forte di Gesù parla anche del concetto di angoscia. Sì, perché se fate caso, il simmetrico, l'elemento, il quadro simmetrico, lo avete come due quadri, voi avete il quadro delle tentazioni di Gesù e anche lì i Vangeri dicono, lo spirito le condusse nel deserto, come anche Luca e Giovanni, qua dove è nella sua ora, che è prima della passione, Gesù fu condotto. L'orto degli olivi e il deserto hanno molte analogie. Nel primo momento, diciamo, si fa avanti la prova come scelta di vita, come decisione di orientamento. Gesù è chiamato a decidere se vuole rappresentare Dio con effetti speciali, attraverso una potenza riferita a sé, che è il migliore, si butta dal tempio, non gli succede niente. Insomma, se vuole rappresentare Dio come Superman o se vuole rappresentare Dio, invece è come il figlio che insegna agli altri ad essere figli e quindi sceglie un'altra strada, sceglie la strada dell'amore del prossimo, della guarigione, del pane che è moltiplicato per chi ha fame, non per sé, eccetera. Nella parte dell'agonia, ancora Gesù è da solo, di fronte al padre, è messo alla prova. È la stessa cosa, è la tentazione di dire allora no, perché nel frattempo è successo che questa esperienza terribile per tutti noi, che anche a moltiplicare il pane per gli altri, che anche a non essere Superman, che anche a voler bene fino al midollo delle ossa, succede che a un certo punto qualcuno dica cosa ce ne facciamo di questo crocifiggilo, ci mette scompiglio, ci rovina la vita, eccetera. E questa è la prova che viene subito dopo, l'altra faccia della prova. Lì sei di nuovo solo e tocca a te decidere appunto se vuoi cambiare rotta, se decidi che ho sbagliato tutto, chi me l'ha fatto fare o no. E in quel momento noi vediamo spuntare, è proprio lì in quel momento che noi vogliamo spuntare appunto l'invocazione dello stesso Gesù. Perché nella seconda parte della prova, quella in cui devi decidere se hai buttato via la tua vita, è vero, volendo bene al tuo prossimo, o se invece no, tu lì hai bisogno di Dio. E anche Dio dice il suo Padre nostro. Dice se è possibile e comunque sia fatta la tua volontà, capisci? Perché lì in quel momento sei appeso soltanto a quello. Ecco, sono le due facce diciamo della stessa prova, della stessa tentazione. All'inizio è la prova della vita nella quale tu sei chiamato, nelle prove della vita sei chiamato a decidere di che cosa e per chi e per cosa vuoi vivere. E poi c'è una prova verso la fine della vita nella quale dentro di te succede qualcosa che ti fa dire adesso devi decidere se ti penti di aver speso la vita per questo o se invece dici no, è stato giusto, anche se adesso appunto mi mortifica, anche se adesso vengo avvilito, è vero, per questa vita che ho vissuto io non la rinnego, io sono quella, io non mi pento, io sto in quella vita e se Dio appunto mi sostiene, io non sprofondo.